ciao oggi vediamo un circuito specifico per le spalle quindi utilizziamo dei pesi da due chili se non li hai puoi benissimo utilizzare delle bottiglie d'acqua da due litri ovviamente andremo a fare quattro esercizi per due volte 30 secondi l'uno 10 secondi di recupero se vuoi puoi ripetermi il circuito una terza volta ti ricordo che per avere risultati di tonificazione e definizione devi seguire comunque un programma specifico e completo non basta fare un circuito così ogni tanto e infatti poi alla fine ti dirò di wonder training comunque iniziamo subito con il primo esercizio partiamo con delle alzate laterali con il busto sbilanciato in avanti stringi forte l'addome il bacino è all'indietro vado a lavorare con la spalla e con il dorsale quindi stringo bene qua inspiro fuori aria quando vado a salire inspiro fuori aria qua inspiro la testa allineata alla schiena mi raccomando esegui gli esercizi in scarico con la colonna quindi corre sempre bene stabile per sostenere la colonna e la schiena ok secondo esercizio un press da qui spingo le braccia verso l'alto stringo forte addome inspiro fuori aria e andiamo a spingere su uno vai gomito in avanti in tutti i programmi in tutti gli allenamenti wonder training ti do l'indicazione passo passo ed eseguo tutta la sequenza assieme a te come ti sto facendo vedere in questo video fuori aria quindi non saranno solo dei tutorial ma saranno proprio delle video sequenze complete gomito avanti stringo addome inspiro fuori aria vado su e ancora 32 ok da qui alzata frontale alternata giù le spalle stringo addome vado a far questo è mi raccomando non caricare la colonna vai non fare le cose di fretta lavora sempre anche con la respirazione inspiro fuori aria inspiro fuori aria vai inspiro fuori aria qua esercizi mirati personalizzati in base alle tue esigenze specifiche ed eventuali dolori e tensioni che puoi avere quindi se anche i mal di schiena mali il collo ti indicherò e ti programmerò i video gli esercizi solo per te ok quindi esempio questo non va bene nel caso in cui hai male il collo per dire alzata laterale con il doppio pulse quindi da qui stringo addome piccolo molleggio doppio scendo anche questo per chi ha male il collo non va assolutamente bene quindi troveremo delle alternative nel caso in cui devi avere cioè hai delle problematiche cervicali e quindi scendo scendo vai inspiro fuori qua là e vado giù vai vai scendi stringi stringi pancia non forzare il collo è perfetto primo circuito fatto passiamo subito al secondo mi raccomando per me è sufficiente due volte tutto questo circuito inspiro apro fuori inspiro fuori aria ti faccio vedere proprio come con pochissimo tempo ti puoi allenare tonificare perdere centimetri e rassodare il tuo corpo è fuori aria qua inspiro spingo su vai senza forzare con la schiena qua è il core stabile stringi stringi fortissimo l'ombelico vai ancora vai 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 fai lavorare bene dorsale spalla ok sciogli press con pesetti che partono qui si sentono il gomito avanti mi raccomando i particolari cura bene i particolari degli esercizi che sono quelli che fanno veramente la differenza tra l'esercizio fatto bene e uno fatto quasi bene quindi che non serve vai scendo fuori quindi qui allineo gomito polso inspiro fuori aria trattengo bene il core stabile anche il gluteo qua è stretto le ginocchia sono leggermente flesse per scaricare la schiena vai vai che ci siamo eh si sentono si sentono mi sento anche io sciolgo chi si che di spalle un po' ne ho eh ok da qui spinta in avanti alternata giù le spalle stringo addome vai inspira fuori aria vai 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 lavora bene con la spalla il deltoide anteriore qua che lavora inspiro su quindi ecco mi raccomando eh fai gli esercizi in base alle tue capacità al tuo livello di partenza ai tuoi dolori eventualmente ed è quello che faccio in wonder training considero la tua personale necessità e ti creo il tuo programma non ci sarà mai un programma uguale all'altro eh che è la grande differenza con tutti i programmi generici che ci trovano in giro che alla fine ti fanno solo magari perdere tempo sprecare soldi e farti male doppio pulse ultimo esercizio stringo addome vai ta pa e giù pa pa scendi stringi fuori aria vai ta ta su vai concentrati e andiamo ancora su su stringo addome vai su su dai che ci siamo eh la la ultimi dai che ce ne sta un altro ok stop molto molto bene circuito spalle completato e io ti aspetto in wonder training l'unico e il solo programma personalizzato al cento per cento che puoi fare a casa ovunque tu ti trovi in base ai tuoi obiettivi risultati che vuoi ottenere ed eventuali tensioni e dolori che puoi avere quindi ti puoi allenare tranquillamente anche se hai male il ginocchio ma alla schiena caviglie collo e quant'altro perché ti personalizzerò il tuo programma il programma e me lo chiedete spesso costa solo 47 euro al mese ok vai a scoprirlo al link che ti metto qui ciao